Sì, mi hai letteralmente dato una definizione completa dei problemi e tutte le informazioni a riguardo. Un'altra cosa che ho sempre voluto, è un problema molto comune che abbiamo tutti, è qualcosa che può... so che si dovrebbe perdonare facilmente, ma... Perdonare chi? Perdonare, fondamentalmente. È un problema comune, ma è difficile. No, no, no. So cosa stai per dire. Vedi, al momento, quando devo perdonarti, prima di tutto ti criminalizzo per qualcosa. Poi cerco di perdonarti. Perché questo problema? Non ti criminalizzo, ti accetto semplicemente come sei. Dov'è la questione del perdono? Complica semplicemente la vita. Ma sì, ma quando si tratta di perdonare, quando le persone... No, ma perché c'è bisogno di perdonare? Prima di tutto ti devo criminalizzare, non è così? Per perdonarti. Non ti criminalizzo. Fai ciò che vuoi con la tua vita. Perché? Perché questo è il meglio che sai fare adesso. Se sapessi fare meglio, avresti fatto meglio. Quindi stai facendo il meglio che sai fare. Perché devo criminalizzarti nella mia mente e poi perdonarti? È una complicazione inutile nella vita. Non perdono nessuno perché non criminalizzo nessuno. Ma è difficile quando si tratta di perdonare. È difficile per gli esseri umani in generale. Ecco perché... No. Dico che perdonare non serve. Prima di tutto, quando non ti accuso di nulla, dov'è la questione di perdonarti? Quando ti accetto come sei, qualsiasi cosa tu sia, ok? Non c'è bisogno di perdonare. No, non mi interessa cosa sei. Qualunque cosa sei, mi va bene. Sei fatto così. Gli esseri umani sono fatti così, va bene? Quindi, le persone fanno questa cosa perché hanno aspettative realistiche sulle persone. Siccome le loro aspettative sono irrealistiche, criminalizzeranno qualcun altro nella loro mente e poi, un giorno, lo perdoneranno. Non giocare a fare Dio. Accetta le persone come sono. Non sei un essere umano perfetto. E così nessuno intorno a te. Accettale. Se puoi interagire con loro, avere a che fare con loro, fare affare con loro, avere una relazione con loro, bene. Se non puoi, no, le lasci stare. Vorrei che tutti pensassero come te, Sakurugi. Ecco perché questo ti rende molto diverso e cerchiamo il tuo aiuto e… No, dico che crei inutilmente una complicazione nella tua mente e ci combatti per sempre. Perché una volta che criminalizzi qualcuno nella tua mente, per quanto mai tu faccia atto di perdono, non si cancellerà dalla tua mente. Vero. Vero. Grazie infinite per questo. E un'altra cosa che ho sempre voluto scoprire o capire, ha qualcosa a che fare con la spiritualità. C'è una via o un certo percorso che puoi seguire per diventare… o per avere consapevolezza di… qual è la via? Qual è il cammino verso la spiritualità se qualcuno prova a cercarlo? Vedi, la spiritualità non è un'ideologia di qualcuno, non è un insieme di principi morali, né è andare al tempio, in chiesa o alla moschea. Processo spirituale significa questo. Questo corpo lo hai accumulato in un periodo di tempo, non sei nata così. Ecco cosa dico, l'hai accumulato lentamente. Da dove? Dal cibo che mangiamo, va bene? Qualunque cosa accumuliamo, possiamo affermare che sia nostra. Quando diciamo sono io, è stupido, non è vero? È come dire questi vestiti sono me, questi vestiti sono miei, va bene. Questi vestiti sono me è pazzia, non è vero? Quindi questo corpo è mio, va bene. Questo sono io, è pazzia. Quindi, se comprendi che hai accumulato il corpo, comprendi anche che hai accumulato tutto il contenuto della mente. Quindi, ciò che vedi come le tue questioni psicologiche, lo hai accumulato. Le tue questioni fisiologiche le hai accumulate. Ma cosa sei tu? Non è ancora entrato nella tua esperienza. Quando questo entra nella tua esperienza, diciamo che sei in un processo spirituale. Lo trovo un po' difficile, personalmente, per quanto mi riguarda, perché ho provato tante cose. È questo tutto il problema, forse. Provi tante cose. È come... Vedi, se vuoi trovare dell'acqua in questo terreno, devi scavare in un posto. Se scavi in dieci posti diversi, ogni due giorni scavi in un posto diverso. Avrai molti buchi, ma non avrai acqua. Vero. Ma molte persone mi hanno consigliato, quando si tratta di arrivarci, devi metterti a fare meditazione e cose del genere. In qualche modo, inconsciamente, anche quando provo a farne parte, in qualche modo non mi conduce nel posto che cerco. Devi venire a fare un po' di ingegneria interiore. È questo che volevo. Ci stavo arrivando. Voglio davvero fare ingegneria interiore con... con te, dove potrò capire quale sia la causa. Vedi, è solo questo. Se il tuo corpo e la tua mente prendessero istruzioni da te adesso, manterresti questo bene e in salute? Se il tuo corpo prendesse istruzioni, se la tua mente prendesse istruzioni, la manterresti felice e gioiosa? È tutto qui. Hai un super computer, ma non sai dove sia la tastiera. Ecco perché serve l'ingegneria interiore. Devi trovare la tastiera. Allora digiterai ciò che vuoi. Di certo la troverò molto presto. Grazie, Sadhguruji. Grazie. 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 Grazie.